Questa volta di dolce non c'è niente, la fiction non riprende e per i lavoratori della produzione di agrodolce scatta la cassa integrazione. L'accordo è stato raggiunto tra il Ministero del Lavoro, i sindacati e la società BTLSRL a cui fa capo la produzione della serie di RAI3. Le riprese si sono fermate nel marzo scorso a causa di problemi finanziari e dall'aumento dei costi di produzione. Per la cassa integrazione in deroga la regione siciliana garantirà il 40% della spesa che coprirà il periodo compreso tra l'11 marzo e il 31 luglio. L'intervento della regione trova motivazione nel fatto che con la RAI finanzia già la fiction con i fondi FAS destinate allo sviluppo delle aree svantaggiate. Oltre ai lavoratori anche gli attori di agrodolce sono in agitazione. Vincenzo Ferrera e Dorio Scaduto, a nome del cast, hanno sollecitato un intervento perché si decide una volta per tutte se proseguire o chiudere l'esperienza di agrodolce. Gli attori hanno firmato un contratto di 26 mesi ma la storia della fiction continua ad essere dominata dalla instabilità finanziaria. Proprio a causa di un aumento dei costi, la società Einstein, che cura la produzione, ha fermato le riprese. Da ottobre 2010 non è riuscita infatti ad incassare fatture per 4 milioni di euro.